Troppo bella C'è anche sul pc tu playstation 4? Sì ma Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale Bavaria Lord 29 Godetevi questo nuovo video lasciate un pollicione in su e condividete Veramente ho detto c'è anche tu sul pc playstation 4? Oh my god La vecchiaia È tutta colpa di Giana Ora la prendo me la sono segnata Un attimo L'hai presa? L'hai presa? Giada? Che cosa? Ma che cazzo ne so sei tu che dici? No parlo con mia nonna di mia mamma Saluta la mamma di Giada Mi mamma ormai Si però si deve calmare questo Ma non mi sta qua Non si vede raga è epica Stanno entrando dalle scale principali Modula Modula Che ha messo il C4? Voglio dire Un obiettivo contesto Dove sono? Sopra Twitch sopra Vai a fare con te Chi è che ha aperto il buco raga? Quasi fai il giro No Ecco tu Non urlare Scusa Ti è rimasta da sola Ecco la Ecco la cache No No Se devi cambiare l'arma è passata Eh lo so Ecco il camperato sul camera da letto Madonna Guarda Mi sa che farei i kai Ti sono scantillo Preso Bello Aspettate che ho visto lo yokai da qualche parte Distrutto i kai Distrutto i kai No No Eh c'è Ecco Ok arrivo Non No Non 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 bella entrate entrate bella ah signore a 1 di vita sledge a 0 di vita no ma dai l'ho presa Josh con 20 di vita fuori dal tunnel hanno aperto un buco ok tieni d'occhio lì brava Giada bravissima Giada grazie per avermelo detto più che altro eh fortuna mi si è messo in guarda la gente sta scendendo da scala verso il verzo principale bella Vec sull'ingresso principale quello grosso non te la cercai Vector dovrebbe essere Finca è Finca che sta passando da dietro verso Giada sulla botta c'è ancora gente da dietro dove? dietro di te Giada c'è il tunnel eh faccio eh ci dovresti avere Finca dietro aprirà da dietro aperto dietro passerà da qui occhio che ti può sparare attraverso il muro eh non lo so hai visto? è quello che sta facendo c'è un minuto quindi occhio raga ecco abbassi qua dietro io cerco di vedere se tutte le camere mi permettono le girano allora io penso guarda l'angolo eccola ecco l'ingresso principale già dalla tua sinistra eccola bravissima madonna quanto è un hub questo mamma mia io ragazzo video lo pubblicherò e lo pubblicò prima di tutti per far capire le call a cosa servono mamma mia grazie quello di cui parlo tutte le me le ha chiamate guarda Giada 7 kill tutte call raga io questo toglie i cosi comunque questo toglie lì quando in giro ok qui mi hanno distrutto qualcuno ha aperto qua dietro raga si si no si scrive aperto il garage ok ho distrutto i bandit che stavano sul coso raga esperimenzo morto ragazzi sono il grattellino ho riaperto ho aperto il secondo mira eh vabbè sono mira e tela tutti e due un obiettivo è uno smitragliato aspetta cazzo ferito morta morta raga doccia 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 ma cazzo aspetta una mano tranquilla grazie alex mi hai tolto tre di vita te la farò pagare marrano chi ha aperto qui tu vector io vado a cantare da dove vanno fatto da dove vanno fatto da me non l'hanno fatto il secondo silenzio hanno aperto la botola qui eh raga la botola di palestra ma troppo ma dai dai in pre fire è uscito ragazzi tutti e due in obiettivo per favore io intanto ho distrutto un po' i droni ma hanno aperto le due botole è scesa intanto tu da scare puoi proteggerla dietro occhio al drone sotto i piedi giada 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 fatti prima il drone sotto i piedi aspetta no no è alex alex oddio mio occhio a destra sinistra dietro dai no va bene va bene va bene gabriel se vieni noi siamo in team su rainbow fatto valchiri bello siccome ora siamo in quattro se vuoi venire sono venato ecco per palestra ecco preso ecco si arrivo ciao tanto alex madonna il pronto c'è posto entrata principale ok ho fatto fare il no cazzo c'è pulso mannaggia salì salì da tu entra ok a sinistra ok a sinistra non è dei nostri questo no è quello ma io non capisco perché use porco discord no 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 good job come hai preso come ragazzi questa qui sarà pubblicata sul mio canale no no Ciao